Faccio un video nascosto a quelli che mi danno in continuazione il fastidio. Provate a passare di nuovo e sarete su YouTube. Mi dispiace, ma è privata sulla proprietà, però per il camion mi manderò su YouTube, voi non potete dirmi niente, perché voi avete fatto una cosa illegale, io faccio una cosa illegale. Ma non è illegale filmare le persone. Non è illegale. provate a postarci un'altra volta dai non è che sto registrando passate il gatto ha visto qualcosa mi sembra vedere quando vengono non vogliono venire ma che schifosi sono io e non voglio più venire vi giuro che se passate qua una minima volta vi registrano e sarete su youtube questo è bello di una tramita da youtube ai comunque quella persona si chiama francesco appena arrivo lo so perché mi ha visto ma che non so io lo so perché mi ha visto sono qualcuno niente eccolo basta dai chieda dove l'ha trovato la vedo un minimo come viene vedo un po' come viene più come viene più un po' 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 lei è un uomo lei è una nuova lei è una nuova lei è una nuova lei è una nuova questa qua una scosta a dito è una nuova questa e queste sono nuove e questa e questa è nuova forse sapeva che io fosse una youtuber e non voleva che lo registrassi mentre andava in bicicletta mi sembra anche ovvio perché a nessuno mi piace essere registrati quando non si vuole però vabbè comunque ho sistemato il mio letto non guardate quel fatto è il letto più sistemato al mondo con i comodini più sistemati al mondo colgato fuori dalla finestra più sistemato al mondo ma che il gattuno si è messa tipo i ginocchiata vabbè il video è andato male è finito male è andato male